Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo un'anticipazione per la prossima stagione non ancora ufficiale, la prima maglia del Liverpool in edizione Player, la maglia dedicata ai calciatori. Grazie per la visione! Questa maglia è molto bella, nella mia classifica prende 3 stelle, mi piace tanto il tono di rosso che è stato scelto e il contrasto che fa con i polsini. Mi ricorda un pochino la maglia del Manchester di due anni fa, ma devo dire che questo rosso è molto più bello. Qui in alto trovate il costo? Molto basso, molto vantaggioso per una maglia fatta sicuramente bene che arriva con ottimi tempi di spedizione. Questa è arrivata in 21 giorni. Come al solito vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Ora vi lascio la parte finale, mi raccomando però lasciateci un grande like, iscrivetevi al canale, è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.